Va in pensione la vecchia ricetta rossa del medico di famiglia. Dal primo marzo, infatti, sarà sostituita dalla ricetta elettronica o dematerializzata. La legge che manda in soffitta i blocchetti rossi del medico, ricorda la Federazione Nazionale dei Medici di Famiglia, è in realtà del dicembre 2015 e recepisce un decreto di più di tre anni fa. Dopo alcuni blocchi informatici, il sistema è dunque ora in astri di partenza. Per prescrivere un farmaco, un accertamento o una visita, il medico si collegherà d'ora in poi a un sistema informatico, lo stesso visibile al farmacista che ci consegnerà pillole o sciroppi. Ma ricetta elettronica non è ancora sinonimo di abolizione delle carte. Per ora, infatti, riceveremo dal dottore un piccolo promemoria da consegnare al bancone della farmacia, che permetterà di recuperare la prescrizione anche in caso di malfunzionamenti del sistema o assenza di linea internet.